signori e signori buonasera nelle aste di Wandaike oggi incominciamo a presentarvi le opere presenti in asta iniziando da questo capolavoro di Tamara de Wempicka che si chiama la bella Raffaella ovviamente si tratta di una serografia a tiratura limitata certificata dalla figlia dell'artista Chizette Wempicka che è pervenuta da noi da Stati Uniti da Los Angeles dove le stampano usando pigmenti particolari e dove si trova unico posto nel mondo unica tiratura che è fornita di certificazione della famiglia de Wempicka quindi assolutamente potete in questa occasione acquistando questa opera riceve a casa vostra un capolavoro dell'artista artico Tamara de Wempicka con la quale l'artista ha voluto sfidare i suoi colleghi maschi rappresentando un nudo di donna carico di erotismo e di sensualità che neanche un uomo riesce a rappresentare questa è stata la sfida di De Wempicka ben riuscita visto che durante le aste di Christis un originale dipinto ad olio ha acquisito un record mondiale mai visto nell'arte contemporanea durante l'asta a Christis quindi non perdete questa occasione vedete bellissimi contrasti chiaroscuro uso dei colori contrastanti pieni di pathos e questo nudo che riprende un po movimento dell'arte barocca però che vuole anche ispirarsi all'arte dei maestri italiani perché la Tamara de Wempicka adorava l'arte manierista e barocca dell'arte italiana riferendosi spesso nell'uso di chiaroscuro e nell'eleganza dell'espressione alle opere anche di Caravaggio vi invito a non perdere occasione perché l'asta riserva dei prezzi di favore visto che ci troviamo nel periodo natalizio ciao